Questo stadio in costruzione dell'Albinola F è un piccolo gioiello e soprattutto è un modello per tutto quello che può riguardare il discorso del calcio di Serie C e non solo? Sì, l'intenzione non era tanto di fare un modello ma uno stato di necessità, perché abbiamo dovuto abbandonare lo stadio di Bergamo e nella provincia di Bergamo non c'erano altri stadi omologati. Quindi da questa necessità si è sviluppato un progetto, lo stiamo portando avanti, ci auguriamo che possa servire anche come modello per la Serie C, per ora uno stato di necessità. È stato uno sforzo portato avanti dalla società, da lei personalmente e c'è magari in futuro la necessità, la possibilità di migliorare le cose anche attraverso interventi di sostegno? Sì, io credo che possa essere preso da esempio per capire cosa è giusto fare, perché questo possa diventare il modello, non tanto come costruzione ma come idea, per il mondo della Serie C. Noi sappiamo essere un mondo in grossa difficoltà dal punto di vista economico-finanziario, perché non ci sono grosse risorse e oggi non ci sono più nemmeno quelle contribuzioni che vent'anni fa servivano per realizzare dei centri sportivi. Un'ultima cosa da imprenditore, investire nello sport diventa sempre più difficile, c'è però anche un aspetto sociale, questa è un'area che potrà in futuro anche essere a disposizione dell'intero territorio? Io credo che l'imprenditore che investe nella Serie C raramente lo fa solo per volontà di arrivare in Serie A, questi sono casi isolati, ma lo fa normalmente per destinare delle risorse al territorio, ai giovani del territorio, perché il nostro motivo di soddisfazione è sì l'avere Belotti che abbiamo levato noi, perché Belotti è nato in questo centro sportivo qui, ma soprattutto i 200-250 ragazzi a cui tutti gli anni insegniamo quelle che sono le regole dello sport, prenderle e darle, convinti che questo possa essere uno stile di vita importante per loro ragazzi e per noi società. Grazie. 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 Grazie.